Presidi davanti ai principali studi di produzione a Hollywood, dove è andato in scena il più grande sciopero da 40 anni a questa parte. La protesta ha visto insieme attori e sceneggiatori ed è stata indetta dal maggior sindacato dopo il fallimento in extremis di un accordo con gli studios per un aumento salariare, ricalcolo, diritti d'immagine e tutele su uso di intelligenza artificiale. La protesta ha avuto riverberi anche in Europa. La prima di Oppenheimer a Londra è stata programmata per iniziare un'ora prima del previsto a causa dello sciopero. Si tratta della prima protesta congiunta tra attori e sceneggiatori dal 1960.